Non creare aspettative, non ci saranno delusioni. È come lancio un sasso in su. Sarguru, lancio un sasso in su. Perché mi atterra sulla testa? Beh, è così che funziona su questo pianeta. Se non vuoi che funzioni così, devi lasciare quest'atmosfera e lanciare la pietra in su. Continua a viaggiare verso l'alto. È così che funziona qui. Se la lanci in alto, ti atterrà sulla testa. No? Sei come qualcuno che gioca al solitario, sai? È come giocare al solitario. Questo è solo perché... Sei come una persona che vuole guidare sulle strade di Mumbai, senza sapere nulla del veicolo che guida. Non sai come guidare. Ma sei salito su un'auto o una moto e hai provato a farlo. La moto non collaborerà affatto. Il primo momento cadrai. L'auto è un po' più facile. Chiunque può farla andare, sai, perché è su quattro ruote. Quindi, se guidi, poi dici, Sadguru sto guidando, ma c'è così tanta paura, che fare? E la gente muore sulla strada, che fare? Beh, è questo che accadrà. Quindi, se vuoi guidarla, passi una certa quantità di tempo imparando a guidare, prima di andare per strada. Non è così? Anche questo è così. Prima di iniziare la tua vita, devi spendere del tempo a imparare qualcosa su questa macchina. Non è così? Questo corpo, questa mente, come usarli? In che modo funzionano al meglio? Non dovremmo spenderci del tempo. No, ti butti semplicemente nella vita. E mi creo aspettative e vengo deluso. Ovviamente non realistico. Non è così? Quindi, oh, se non creo aspettative, forse non farò nulla. Questo non è vero. In ogni caso stai facendo qualcosa. Non è così? Anche le api, e gli uccelli, e le formiche, gli elefanti, stanno facendo qualcosa. Non è così? Qualunque cosa possono fare, non la fanno? Quindi è tutto quello che puoi fare anche tu. Qualunque cosa puoi fare, puoi farla. Ciò che non puoi fare, non puoi farlo. Quindi ti abbiamo insegnato l'Isha Yoga per rimuovere tutte le altre assurdità. Capisci? Se puoi guardare a ogni cosa intorno a te nello stesso modo, ogni cosa che puoi fare, la farai. Ciò che non puoi fare, non lo farai. Qual è il problema? È così che l'intera esistenza funziona. Non è così? Se chiedi a questo pianeta di girare al contrario, può farlo. Nemmeno Madre Terra può farlo. Quindi che problema c'è? Sei semplicemente un pezzo... Non è così? La Terra sta girando così. Se dici, gira così domani mattina, può girare? No. Quindi che problema c'è? Puoi fare solamente ciò che puoi fare. Quando vedi questo, tutta la tua vita sarà focalizzata su come accrescere la tua capacità di fare. Non sprecare il tuo tempo in sciocche aspettative. La vita accadrà nel modo in cui accade non perché lo desideri. Accade perché sei competente in un certo modo. Invece di rendere te stesso competente, stai perdendo il tuo tempo in sciocche aspettative su te stesso. Quindi, invece di passare il tuo tempo a costruire aspettative fantasiose, passa il tuo tempo a rendere questo competente. Ciò di cui sei capace è tutto ciò che farai. Non è così? Puoi fare qualcosa di più. Qualcuno può fare più di ciò di cui sono capaci? No. È solo che la tua capacità può essere estesa. Senza estendere la tua capacità di fare. Stai costruendo aspettative. È fondamentalmente sbagliato. Non è così? No? È fondamentalmente sbagliato. Non è così? Ora voglio correre i cento metri in sette secondi. Non dovresti pensare a questo. Dovresti solo lavorare sulle tue gambe e sui tuoi polmoni. E semplicemente correre. Forse, chissà, li correrai in sei secondi. Perché ti preoccupi del tempo? Sviluppa le tue gambe nella condizione più potente che puoi. E semplicemente corri. Per la semplice gioia di farlo. Non sappiamo quale sarà il tempo. 21 minuti? Quindi, non sprecare la tua vita a stabilire aspettative. Perché queste aspettative non sono nemmeno tue. Guardi il tuo vicino e stabilisci aspettative per te stesso. È un modo molto, molto sciocco di costruire la tua vita. Perché le tue aspettative non sono nemmeno tue. Non è così? Ti dico, la mente umana è tale... Diciamo a Mumbai, tutti hanno una sola gamba. Tu ne hai due, ma tutti gli altri ne hanno solo una. Saltellano tutti in giro. Anche tu lo farai. Sebbene ne hai due. Perché stabilisci le tue aspettative guardando le persone intorno a te. Quindi, non c'è bisogno di alcuna aspettativa. Semplicemente rendi te stesso competente. Qualunque cosa consenta la situazione. La faremo. Solo... Devi fare solo questo. Sviluppare il tuo corpo e la tua mente in modo tale da poterli utilizzare al massimo della capacità. Così qualunque tipo di situazione sorga davanti a te di conseguenza tu agisci non nel modo fantasioso che ti piace. Sai? Ora abbiamo avviato una forma di educazione totalmente diversa in Isha chiamata Sanskriti. Non hanno nessuna istruzione formale. Imparano solo yoga. Musica classica. Danza classica. Lingua sanscrita. Lingua inglese. E arti marziali. Nient'altro. Questi ragazzi non sanno nulla. Ma vieni a vederli. Assolutamente così. Perché insegniamo semplicemente loro ad usare il proprio corpo e la propria mente al massimo delle capacità. Vedrai quando avranno 18 anni. Saranno delle creature fenomenali. perché il tuo successo in questo mondo è solo questo. Nel mondo fisico il successo è solo questo. Quanto efficacemente puoi usare il tuo corpo fisico e la tua mente? Il tuo successo è tutto qui. È così? È tutto qui. Non è così? Un po' di conoscenza ti serve. La dannata conoscenza è tutta in rete. Non devi tenerla nella tua testa. È tutto in rete. A meno che tu non voglia fare qualche tipo specifico di attività per cui accumuli della conoscenza. Puoi farlo. Ma anche questo, direi, l'intero sistema di istruzione che dura un po' più di 20 anni ora può essere compresso in 5 o 6 anni se le persone hanno una certa capacità mentale. E ogni essere umano, quasi ogni essere umano, tranne quelli che sono meno mati in qualche modo, quasi ogni essere umano è capace di questo. Se solo elimini le sciocche aspettative, che sono un fattore paralizzante, perché la tua aspettativa è se qualcuno fa questo, vuoi fare un passo in più. Anche se quello è uno standard storpiato. Non andare costruendo aspettative. Lavora solamente a sviluppare il tuo corpo e la tua mente per rendere te stesso competente. Che tu possa usarli nella massima misura. Non sappiamo come li utilizzerai. Ciò che fai in questo mondo dovrebbe essere rilevante per la situazione in cui esisti. Non è così. L'azione riguarda sempre la situazione. Non riguarda te. Quest'unica cosa, se la comprendi, allora non ci sarà alcuna aspettativa. Semplicemente fai ciò che è necessario. In una certa situazione, fai semplicemente ciò che è necessario. Tutto qui. Se ti trovi a Mumbai, impari la borsa. Se ti trovi a Cania Kumari, impari a pescare. Anche questo lo fai bene. Anche quello lo fai bene. Tutto qui, ovunque tu sia. È tutto qui. Non è così? Sono un tanto potente. Non guardare le lapire. Non guardare le lapire. Nem passare. Grazie a tutti.